Noi nel trattamento delle dissezioni acute, noi cardiochirurghi dobbiamo focalizzarci sulla resezione del primary entry tier, per questo io ho enfatizzato il concetto prima dell'esecuzione dell'anastomosi di stale aperta perché solo avendo la orta aperta e visualizzando l'arco possiamo sapere se c'è o meno un primary entry tier nell'arco. Sappiamo come nella grande maggioranza dei casi il primary entry tier è localizzato a livello della orta ascendente e in questi casi una sostituzione della orta ascendente e dell'emi arco rappresenta come dicevo prima il gold standard. Proprio per enfatizzare questo concetto ho messo questa diapositiva, questo è un paziente che abbiamo operato già una decina di anni fa ma è proprio emblematico, è un caso più unico che è raro, però sta a sottolineare l'importanza della resezione del primary entry tier. Questa signora aveva un primary entry tier localizzato a livello della orta ascendente, nessuna lacerazione intimale importante a livello della orta toracica discendente, vedete cosa è successo, questa è l'attacco alla dimissione, la paziente è stata sottoposta a sostituzione della radice della orta ascendente dell'emi arco, questa è l'attacco alla dimissione, vedete qui a destra già a tre mesi di distanza potete vedere come tutto il falso lume toracico era trombizzata e a un anno di distanza c'è stato proprio una guarigione completa e una retrazione cicatrizziale del falso lume in aorta toracica discendente. Ho lasciato il nome della paziente anche a discapito della privacy proprio per rendere conto che è proprio la stessa paziente. Però nel 30% dei casi ci troviamo in presenza di una lacerazione intimale a livello dell'arco aortico o a livello della porzione prossimale dell'aorta toracica discendente, in questi casi è obbligatorio eseguire una sostituzione dell'arco. E anche in questo caso, come per la bentale e come per la sostituzione della radice aortica in precedenza, la tecnica chirurgica non espone, di per sé non espone a un aumento dell'incidenza della mortalità. Io sto parlando, sono casistiche riportate nei centri cardiochirurgici focalizzati alla chirurgia aortica, però di solito la mortalità nelle dissezioni aortiche acute è legata alla malperfusione, alle condizioni cliniche del paziente e non alla tecnica chirurgica stessa. Ci sono vari tipi di sostituzioni, le sostituzioni classiche dell'arco più o meno estesamente, le tecniche di debranching che abbiamo visto già riportate dai colleghi in precedenza, a Bologna noi oggi attualmente se dobbiamo eseguire una sostituzione dell'arco aortico in presenza di una dissezione acuta di tipo A, noi eseguiamo il frozen elephant trunk. Perché? Perché riteniamo questa tecnica più sicura rispetto alla sostituzione classica dell'arco aortico. Per quale motivo? E' proprio qui riportato in questa diapositiva, il primo motivo è perché migliora l'emostasi a livello dell'anastomosis distale. La presenza dell'endoprotesi in aorta toracica discendente determina una compressione del falso lume che non è pressurizzato a livello dell'anastomosis distale, pertanto migliora l'emostasi a quel livello. Secondo motivo perché la presenza dello stent in aorta toracica discendente stabilizza il vero lume e lo riespande completamente a livello dello stent. Ma questa situazione è vera anche a distalmente allo stent stesso, vedete in questa distanza il rindirezzamento del sangue all'interno del vero lume in aorta toracica discendente porta a una riespansione del vero lume anche distalmente allo stent stesso. E altro importante punto a favore dell'utilizzo del frozen elephant trunk è che soprattutto in presenza di una malperfusione preoperatoria questa l'endoprotesi in aorta toracica discendente con la possibilità di chiudere tutti i rientri distali e il rindirizzamento del flusso nel vero lume porta alla risoluzione molto frequentemente di quelle occlusioni e di quelle malperfusioni dovute a occlusioni dinamiche delle branche viscerali. In questo caso vedete come nel preoperatorio c'era un'occlusione completa del tripode celiaco che all'attac postoperatoria con la riespansione del vero lume il tronco celiaco è risultato pervio, persiste una lieve stenosi però la malperfusione presente nel preoperatorio è stata risolta. E anche con questa tecnica abbiamo visto che i risultati sono sovrapponibili in termini di mortalità ai pazienti sottoposti a sostituzione dell'arco con tecnica tradizionale, considerando poi il fatto che si utilizza questa tecnica per dissezioni complesse e complicate frequentemente da malperfusione. E soprattutto è anche importante perché l'utilizzo e la stabilizzazione della orta toracica discendente riduce in maniera significativa la necessità di reinterventi a livello della orta toracica distale e toraco addominale. Già è da anni che sappiamo e abbiamo la conferma anche dei dati che provengono dal nostro centro che l'utilizzo del frozen elephant trunk e le dissezioni ortiche acute riduce nel follow up a distanza la necessità di reinterventi. Questa è la nostra esperienza complessiva con la tecnica del frozen elephant trunk e negli ultimi dieci anni abbiamo operato a giugno di quest'anno 235 pazienti, la maggior parte con le vita ma nell'ultimo periodo con questa nuova protesi che è presente alle branche, la toraflex e il 70% della nostra esperienza è legata a dissezione e vedete come comunque siamo selettivi anche in questo e limitiamo la sostituzione dell'arco solo in presenza di una lacerazione presente nell'arco o un aneurisma dell'arco ortico in presenza di dissezione ortica acuta perché vedete i casi sono 25 su più di 250 pazienti, il 10%. Abbiamo utilizzato anche quel frozen elephant trunk anche in qualche dissezione acuta di tipo B complicata in cui il trattamento endovascolare non era possibile. Per cui concludo dicendo che come ho detto prima nella presentazione precedente la sostituzione dell'orta ascendente dell'emiarco è ancora il trattamento di scelta, la sostituzione dell'arco aortico è necessaria in presenza di una dissezione acuta di tipo A quando è lacerato o è aneurismatico e noi crediamo molto nella tecnica del frozen elephant trunk perché riduce i problemi di questa chirurgia soprattutto nell'acuzia.